Ciao, sono Francesco Rigoli, questo è Keteber Specialist e in questo video ti farò vedere la routine B degli allenamenti per rimanere in forma durante la quarantena. Come abbiamo visto nel video precedente, il nostro allenamento è diviso in due routine. La routine A l'abbiamo vista e dovrebbe essere uscita qui nelle schede, ed adesso vediamo la routine B dedicata un pochino di più alla parte superiore del corpo. Utilizzeremo una metodica che ci permette di fare un po' più di volume su ogni distretto muscolare, quindi se vogliamo è un po' più dedicata all'ipertrofia e faremo che per ogni esercizio di tensionamento ci sarà una prima parte dove facciamo il movimento completo e poi alcune altre ripetizioni con movimenti parziali. E quindi faremo il press con questa metodologia, il rematore e il push-up. Poi andremo a fare una combo sugli esercizi balistici e faremo swing a due mani, swing a una mano e snatch, e poi ripartiremo swing a due mani, swing a una mano e snatch ovviamente sull'altra. Per finire faremo un esercizio per l'addome. Il primo esercizio quindi è un press. Andiamo a prendere il nostro kettlebell, infiliamo la mano in incastro e appoggiamoci in rec position. Facciamo cinque ripetizioni complete. Uno, due, tre, quattro e cinque. Poi da qui scendiamo e facciamo cinque ripetizioni da questa angolazione fino a chiudere il movimento. Uno, due, tre, quattro e cinque. Finiamo mettendo il movimento parziale dalla rec position fino a con l'omero parallela al teneo. Tre, quattro e cinque. Una volta che abbiamo finito questo braccio, ovviamente andiamo sull'altro. Cinque movimenti completi. Due, tre, quattro e cinque. Cinque movimenti incompleti da qui fino a chiudere il movimento. Due, tre. Quattro e cinque. Gli ultimi cinque li facciamo incompleti, parziali, dalla rec position fino a questa posizione. Due, tre. Quattro e cinque. Dopo aver fatto questa metodologia sui press, la ripetiamo sul rematore. Stessa metodica sul rematore. Ci possiamo mettere in questa posizione e facciamo prima cinque movimenti completi. Quindi da questa posizione tiriamo su. Due. Sempre ricordandoci che il gomito va verso la tasca dei pantaloni. E cinque. Da qui scendiamo e portiamo il braccio a 45 gradi e facciamo cinque movimenti solo in questo range. Tre, quattro e cinque. E poi cinque movimenti solo in questo range. Tre, quattro e cinque. Se hai notato, la spalla sta sempre ferma, lontana dall'orecchio e il gomito invece si muove ma andando indietro e non verso alto. Stessa cosa la facciamo ovviamente sul braccio sinistro. E quindi, prima cinque movimenti completi. Uno. Due. Tre. Il gomito sempre indietro. Quattro. E cinque. Cinque movimenti parziali. Due. Tre. Quattro. Cinque. Cinque movimenti parziali solo nella porzione di partenza. E cinque. Per quanto riguarda i push-up, quindi la nostra spinta orizzontale, se hai a disposizione due kettlebell sarebbe l'ideale perché il movimento sarà più profondo, il range di movimento sarà più ampio. Non importa il peso degli attrezzi e se non ne hai due puoi utilizzare qualsiasi altro appoggio per le mani. Se non hai a disposizione niente, fai semplicemente un push-up con le mani a terra, il range di movimento sarà quello. Ti faccio vedere comunque altre varianti. Ok? Però, se hai la possibilità, li facciamo in questo modo. Mi metto in questa posizione e faccio i primi cinque movimenti scendendo il più possibile. Ovviamente le spalle staranno sempre messe in questa posizione, lontane dalle orecchie. Quindi, uno. Due. Tre. Scendiamo bene giù. Quattro. E cinque. I successivi cinque li facciamo da questa posizione fino a qui. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Mi raccomando sempre l'assetto delle spalle lontane dalle orecchie. I successivi cinque sono da qui. Due. Tre. Quattro. E cinque. La variante potrebbe essere utilizzare un solo kettlebell e tenere le mani sopra l'attrezzo. È un po' faticoso. È più... Lo sentirai un pochino più sui tricipiti, ma è comunque un'altra possibilità. fare questo. Quindi fare il movimento completo qui e poi le varie altre posizioni intermedie. Se no, possiamo semplicemente farli a terra e, anche in questo caso, farai la variante che ti riuscirà più comoda. Quindi o lo facciamo da questa posizione o appoggiamo le ginocchia o, per esempio, potremmo anche semplicemente stare in piedi o appoggiarci a un ripiano se il nostro livello di forza attualmente è quello. La nostra combo di esercizi balistici, come abbiamo detto, prevede degli swing e degli snatch. Andiamo a vedere come. Faremo prima cinque ripetizioni di swing a due mani. In questo caso, ovviamente, power swing, poi cinque ripetizioni con una mano, sempre power swing, e poi andremo a fare cinque snatch. Uno, due, tre, quattro, e cinque. Da qui scendiamo, facciamo la stessa combo, però sull'altra mano partendo con lo swing a due mani. Quindi, uno, due, tre, quattro, e cinque snatch. Uno, due, tre, quattro, e cinque snatch. Uno, due, tre, quattro, e cinque. L'ultimo esercizio è per l'addome. Ci mettiamo in questa posizione, facciamo quello che viene definito un curl toracico, cioè manteniamo la zona lombare neutrale e solleviamo un pochino la parte delle spalle, ma senza piegare la zona lombare. Da questa posizione solleviamo anche le gambe e cerchiamo di fare dei micro movimenti incrociati, quindi gamba sinistra, braccio destro, e gamba destra, braccio sinistro, senza perdere il nostro allineamento della zona lombare. Quindi la bravura sarà muovere le gambe e le braccia in modo alternato senza perdere la curvatura lombare. Cerchiamo di mantenerlo per 15-20 secondi. E poi appoggiamo. Farlo più ampio è possibile, ma dobbiamo sempre cercare di farlo rimanendo con la zona lombare neutrale. Ecco, evitiamo di sollevarci andando a cercare per forza di toccare la gamba, perché in quel caso magari perdiamo la zona lombare e io ti sconsiglio di farlo. Quindi, eventualmente, per farlo più ampio, facciamo sempre prima questo movimento, teniamo la zona lombare ferma, solleviamo le gambe e il movimento può essere anche fatto più ampio, ma la zona lombare la lasciamo neutrale. Questo è più difficile perché, chiaramente, il carico è sempre più lontano dal punto in cui è attaccato al corpo, quindi la leva più lunga pesa sempre di più l'arto. Quando arriviamo in questa posizione, chiaramente, il braccio e la gamba non pesano più. Ripeti questo circuito tre o quattro volte e poi, nelle settimane, aumenta i giri, cercando di arrivare magari anche a 5-6. Il recupero può essere messo fra un giro e l'altro, oppure, se non ne hai bisogno, vai avanti, non stop. Alterna questo allenamento con quello che abbiamo visto in precedenza, quindi alterna queste due routine, A, B, A, B, ogni volta che ti alleni, che potrebbe essere tutti i giorni, oppure un giorno ti alleni, un giorno recuperi e poi parti con l'altra routine. Se ti è piaciuto il video, metti il like, condividilo con altri tuoi amici quarantenati che non possono allenarsi in palestra come vorremmo tutti. Iscriviti al canale, clicca sulla campanella per ricevere le notifiche quando pubblico un nuovo video. Se hai bisogno, scrivimi nei commenti e ricordati, se pensi al Ketteber, pensi Ketteber Specialist.